E' uscita la skin di Captain America che io non comprerò perché sono povero come praticamente quasi tutti Cos'è stata quello con rumore incredibilmente forte Comunque sono atterrato! Sono atterrato e adesso uccideremo tutti Io spero proprio di non spaccarvi i timpani e questo è il punto Signor microfono non faccia troppo rumore Nuovo livello 18 mamma mia sono talmente tanto forte che voi non avete idea Non è vero comunque ovviamente faccio schifo in Fortnite e proveremo a vincere Però secondo me dal titolo potete sapere com'è andata a finire Secondo me però non va a finire bene come sempre praticamente Poi ho scoperto che i tizi che uccidevo sono bot Quindi perfetto Eh signor Giangiuperto allora come osa c'è sto signor Giangiuperto che cerca di uccidere Chi caspita è? Oh ma la smetti Ah ma sono tizi della... Che sta facendo? E' idiota scusate Cioè è più idiota di me Grazie del cecchino lo prenderò sicuramente Allora lei adesso muore grazie Grazie Allora chi cazzo spiterina è? Chi è che mi sta sparando? Ma proprio non ne ho idea Ah ah il van fucile Stai stai... Oh se non la smettono sti qua che... Mmm... Ah ok no ci sto mettendo mezz'ora per fare una cosa Porca sbaccio Ah 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 Niente cioè raga morirò No è impossibile è impossibile è impossibile Ma come... Come caspita si fa a sopravvivere in questo posto da pazzi Ho trovato il coso che potenzia le armi Ma smette quel tizio di sparare Ha rotto le scatole Tanto non mi prendi sei stupido Cosa vuoi fare? Ma io veramente boh Ah 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 Cosa ho trovato qua? Ho trovato una cosa più bella Che io ora prenderò Perché sono più bello Allora Fornay con questi bot ha rotto... Allora a me non piacciono i bot Danno solo fastidio nel gioco Solo fastidio E ti tolgono vita E già ci sono i giocatori pazzi Che ammazzano tutti no? A cosa servono i bot? Scusate A cosa? A chiamare Gian Giuberto? Non so io Sapete che Gian Giuberto è una persona molto brutta Oh Molto Troppo brutta Ha rotto le scatole Gian Giuberto Proprio come i bot di Fortnite Hanno rotto Basta È ora di vendicarmi Ora denuncio tutti Basta Eh? Chi è? L'ho detto prima sai? Eh? Allora? No niente è incredibile No Scusate Ho delle reazioni un po' Un po' troppo però Oh ma la smetti Ma santo Bappero Mi sta pure ammazzando Ma vi rendete conto? Basta Adesso vado ad ammazzarlo Basta Non è possibile Non è possibile Non è Non è Non è fattibile Oh Allora Porca di quella miseria Muori brutta Guarda Non posso dire Non posso dire Quello che sei Eh? Però Sei molto brutto Fidati Oh Dio Che pazienza Che ci vuole Grazie di avermi tolto Tutto lo scudo E lo apprezzo davvero tanto Talmente tanto Che adesso Non solo vorrei Picchiare Ah c'è una mosca In giro No Basta Per favore Adesso Sto per spaccare qualcosa Tunisiani Voi mi conoscete Come sono io Sono pazzo Sono completamente Pazzo Spacco tutto Perché c'è Ci sono strani rumori Strane musichette Tipo Tutto Tutto Ancora sto qua Ma la smette Oh Vado a prendere materiali Legno e cose Perché Non ne ho Non c'è Non ne ho Ed è meglio averceli Ovviamente È meglio averceli Grazie al cavolo Che è meglio averceli Però dico Oh Però Perché ci deve essere una mosca In camera mia Ma chi è Perché 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 E finora non ha fatto niente E ora che ha acceso le luci Per registrare No Lei cosa fa Viene alla luce Perché è idiota Deficiente Che va Verso la luce Dove sono le luci Sono proprio qua E sta Vi giuro Adesso sto per spaccare qualcosa Perché Continua a svolazzare intorno a me Continua a svolazzare intorno a me E mi sta distraendo Io devo registrare qua Io sono uno youtuber Mica sono Faffa Puffa Fiffa Eh Mosca Non è che va Non faccio niente come te Lei è comunque La mia amica Si chiama Astro Astrolinda Si chiama lei Si Astrolinda Lei è Astrolinda La mosche La moschina Perché è un po' Stupida Un po' Schifo 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 Vai via Sappiamo 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 Che andrà a finire Mi prima Sì Sì Bravissimo 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 Spesso Spesso ci sono Munizioni Spendere in questo Ma perché Ma ti togli Ma santo Santo paradiso C'è sto coso Che mi dà fastidio Ma ti togli Si o no Non si toglie Vabbè Ok comunque Fa niente Allora Adesso noi andremo Appunto qua Diciamo Per riuscire Per riuscire Ad uccidere Almeno qualcuno Cioè Il primo giocatore Io sono sicuro Che il primo giocatore Che incontreremo Vero Dico non bot Mi ucciderà Perché faccio Talmente tanto schifo A giocare a fortnite Che proprio no E poi Cioè Pensate Questa è la prima Partita della giornata Yuppie Ho preso Le splash Le splash Cioè Mamma mia Cioè Duniziani Io so pure i nomi Cioè Voi Cosa ne sapete C'è vera me Vedete quando sono pro player So pure i nomi Delle Degli oggetti Qua C'è veramente Una roba Straordinariamente Impressionante No Cioè Veramente Wow Va bene Allora Eh che è successo Ma santo Gian Giuberto Ma Cioè io veramente Basta Io impongo ai Gian Giuberti Di non esistere più Intanto Siamo a 11 persone Io sto dicendo Cavolate Dalla mattina alla sera Però Tranquilli che adesso Vedrete come vincerò Prendiamo queste splash E Finiamo No Non sono splash Non sono splash Non sono splash Ah Ok È stata molto brutta Come situazione Non voglio che si Che non voglio che Capiti mai più Per favore È stato molto brutto Molto Fidatevi È stato Traumatizzante Come cosa Perché io scambio Ste robe Per le splash Mannaggia Gian Giuberto Eh Fanno schifo Ecco cosa fanno Praticamente Ok Praticamente Mi sono riempito Di materiale Cioè dico Solo di legno in realtà Perché di materiale In realtà Ce ne ho abbastanza Ok Adesso cos'è che Andremo a fare Andremo Verso questa parte qua E cercheremo anche Di uccidere certe persone Se riusciamo a vincere Io sono Rambimbo Eh Allora come fate Allora Io adesso vi do anche un consiglio Com'è che fate Ad arrivare fino a questo punto Di deficienza Beh Prenderla con leggerezza Scusate ma quella È una persona vera Perché È una persona vera Molto bene Ehm Molto bene Sì Molto bene Davvero Grazie mille Guardate Guardateli là Guardateli là Come stanno Quindi Com'è che fate ad arrivare Fino a questo punto Di deficienza Prendetela con leggerezza Ma sì Ma tanto Anche se morite Cos'è che succede C'è certa gente Che proprio Odia perdere Eh però C'è capito Serve perdere Eh Santo Giangiuberto Porco Porco spino Porco spino Porco spino Giangiubertoso È tutta colpa Del porco spino Giangiubertoso Guardate qua Il nubo Del nubo No Cioè stavo parlando Di me stesso Stavo parlando Di me stesso Non del tizio Perché Scusami Perché Sto tizio qua Ha Osato fare questa cosa qua È stato molto inutile Ciò che ha fatto Allora posso cambiare direzione Per favore No è impossibile Vabbè Facciamo così Perché facciamo prima Va Vabbè Non si sa Non si sa Cosa Cosa ho fatto Cosa non ho fatto Allora è stato molto traumatizzante Come cosa Perché il tizio Stava per ammazzarmi E io non so se ho Ciciso un bot O cos'era Però è stato sicuramente Troppo traumatizzante E non voglio che si ripeta Mai più Ho sentito uno Sparo Sentito uno Sparo E c'è gente Che spara E che c'è gente Anche che costruisce Guardate lassù Vedete E porca miseria E io son finito Molto bene Molto bene Grazie mille Eh 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 Grazie mille Eh 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 Sentite facciamo così Perché non mi fido Allora Eh mamma mia Io sono proprio un pro player Comunque se vedete Cioè io costruisco proprio Meglio di un pro player Guardate Prendo anche questo ferro Perché serve sempre Il ferro Assolutamente Che è successo Porco il cazzo Spaspo Spaspo Spastico Spastico L'IQ L'IQ È stato Orribile È stato Traumatizzante Ed orribile Allo stesso tempo Per favore Non uccidetemi Porco il cazzo Oh basta Ma porco spino Ma perché la gente Viene qua a rompere le scatole Se non sa giocare Eh Perché Secondo me è un robot Questo qua Per forza C'è un robot Vabbè un bot Quello che è un robot Sì Adesso Mamma mia Sono proprio bravo A giocare a Fortnite Non è così Sì che è così Assolutamente così Molto meglio questo Assolutamente molto meglio questo Sì E anche questo è Decisamente meglio Grazie tesoro Grazie mille Grazie mille Brutta Non è che ho detto qualcosa Vero Qualcosa di troppo Sì Allora ha rotto Vuoi prendere sto coso No vabbè Scusatemi Ma c'è È proprio deficienza È questa qua La mia Penso sia proprio deficienza Penso proprio sia deficienza Allora Basta essere deficienti Per favore Siamo alla fine Per favore Dunis Concentrati Perché Non è possibile Altrimenti Non è Non è fattibile Una cosa di questo tipo Assolutamente no Assolutamente no Allora Adesso vado da questa parte Faccio così Faccio cosà Mamma mia Sono bravissimo Come potete Ben osservare Allora C'era prima il tizio Con Rompiscatole Allora adesso Mi ricarico tutto quanto Siamo rimasti in tre Praticamente Quindi È arrivata La resa dei conti Vediamo se riusciamo a vincere Oppure no Guardatelo là Brutto schifoso Brutto pezzo di letame Eh A chi sta sparando No vabbè Brutto pezzo di letame Schifoso Pezzo di letame Incarnato Non so cosa sto dicendo Ad unisieno Eh guardatelo là Ok la zona Si sta muovendo Quindi mi dovrei muovere Eh allora Cosa sta facendo Si è rimasti in due Praticamente Molto bene Signore ha proprio Lotto le scatole Posso dirglielo No No Per favore no Dai Che schifo che fai No assolutamente no Non ti lascerò vincere No 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 Piango Piango troppo Ovviamente no Cioè il titolo io raga Me l'avevo preparato prima Il titolo Io sapevo che sarebbe Andato a finire così E io vi giuro Ho detto Chi se ne frega del titolo Adesso vinco Invece no Ho perso Ho perso Vabbè Grazie per aver guardato Questo video Dunisiani Prima o poi vincerò Ascoltate le mie parole Prima o poi vincerò La battle royale Prima o poi In un lontano Futuro Vincerò La battle royale Oppure magari In un vicino presente Non lo so Comunque Grazie per aver guardato Questo video Se siete arrivati Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Siete molto bravi E quindi Per dimostrarmelo Dovete scrivere Nei commenti Maus Così io vi metto Il cuoricino E so che siete arrivati Eh Allora sta qua però Se danza di vicino a me Ha rotto Ok Allora quindi Ci vediamo Al prossimo video Dunisiani Ciao